in collaborazione con Dopo l'impresa, la delusione Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Feral Pissalò News Dopo l'impresa, battere fuori casa l'Alessandria che è considerata una delle grandi del campionato di Lega Pro è arrivata la doccia fredda la sconfitta con un'altra squadra peraltro che è da considerare tra le pretendenti alla promozione con il Bassano sconfitta interna per la Feral Pissalò ci occuperemo come sempre di prima squadra ma avremo un occhio di riguardo anche quest'anno all'interno di questo nostro appuntamento televisivo nei confronti del settore giovanile la scorsa settimana abbiamo ospitato Piovani e questa sera è con noi Pietro Lodi che è vicepresidente del settore giovanile ma è anche il responsabile del progetto Affiliazioni dico bene? Intanto ben ritrovato e benvenuto è così? Ho detto bene? Esattamente mi occupo di tutti quei progetti collaterali ai progetti diciamo tecnico formativo Partiamo però dalla squadra principale la squadra A anche perché lo abbiamo detto più volte un ottimo risultato dei professionisti un buon risultato della squadra che gioca nel campionato di Lega Pro può essere utilissimo anche per il settore giovanile perché è evidente che i risultati positivi creano entusiasmo e attenzione nei confronti della società se paradossalmente la Feralpi Salò fosse in Champions League credo che il tuo lavoro sarebbe un po' più facile è così? Sì beh sicuramente sicuramente la prima squadra è sempre motivo è sempre un elemento trainante quindi tutti i nostri ragazzi vengono allo stadio e seguono con passione la prima squadra quindi sono legati sicuramente alle sorti della prima squadra e allora risultati di quest'ultimo torno del campionato con abbiamo detto la sconfitta della Feralpi Salò ad opera del Bassano Bassano che ripropone la sua candidatura ad un campionato di vertice vince la Cremonese attenzione i grigiorossi perché da anni cercano di risalire la corrente e fino ad ora non ci sono riusciti ma la squadra io credo sia competitiva fa le spese di questo buon momento dei grigiorossi il Pavia altra squadra indicata come possibile protagonista del campionato poi Cuneo sancisce il riscatto dell'Alessandria di Beppe Scienza che vince 1-0 vittoria esterna importante per la Reggiana che acuisce la crisi del Lumezzane sfortunato e maltrattato dagli arbitri nella prima partita in questo caso invece penalizzato possiamo dire dalla forza degli avversari vince il Padova che batte la propria Scienza mentre il Pordenone si libera dell'Albino Leffe quindi Renato e Gianerminio pareggiano 1-1 e vince invece il City Roll del nostro amico Stroppa che riesce a piegare il manto del nostro amico Riccardo Maspero in rimonta perché vincevano i Virgiliani 1-0 poi il City Roll al capovolto il risultato nei minuti finali vediamo la classifica a punteggio pieno c'è solo il City Roll poi dietro sfilacciate tutte le altre io direi credo che tu possa essere d'accordo che è un campionato molto difficile da decifrare soprattutto dopo solo due giornate la Feralpi vince alla grande con l'Alessandria poi perde con il Bassano la Cremonese stenta all'inizio poi vince col Pavia insomma è un campionato difficile sicuramente ogni previsione è affrettata in questo momento del campionato la seconda giornata però sicuramente alcune delle squadre che sono lì ai vertici avranno un ruolo da protagonista in tutto il campionato forse stupisce 0 punti il Pavia dopo due giornate una sorpresa negativa in questo momento è il Pavia sicuramente il Pavia ha incontrato la Cremonese che è una di quelle squadre tutto in casa che sanno farsi rispettare quindi sicuramente avrà modo e tempo di rifarsi andiamo a vedere che cosa è accaduto in campo tra Feralpi Salò e Bassano nel servizio preparato per noi dalla redazione la Feralpi solo fallisce l'esame di maturità la squadra guidata in panchina da Michele Serena non riesce nell'impresa di bissare il successo ottenuto all'esordio sul campo dell'Alessandria all'inoturine i gardesani escono sconfitti dal Bassano per 2 a 1 una formazione quella vicentina l'anno scorso protagonista della finale playoff per la promozione in serie B e quest'anno seria candidata al passaggio di categoria un brusco risveglio per Leonardo e compagni figlio di una prestazione non all'altezza delle aspettative che ha mandato su tutte le furie il patron Giuseppe Pasini eppure la rete di Bracaletti al 27esimo del primo tempo grazie ad una splendida torsione aerea sul traversone di Fabris sembrava aver messo in discesa una sfida che la Feralpi Salò stava controllando ma dopo il vantaggio arrivava inaspettato il blackout fatale minuti di confusione generale generavano il pareggio e successivamente il sorpasso del Bassano l'ex prodotto del settore giovanile dell'Inter germinale trovava l'1-1 al trentottesimo un gollonzo pareggiando la sfida con la palla incocciare sul ginocchio del centrocampista finendo la sua corsa in rete molto più cercato il gol del 2-1 del sorpasso con lo Iacona a disegnare una pallonbella in grado di superare Caglioni l'assalto finale della Feralpi Salò non produceva l'effetto sperato del pareggio regalando così a Michele Serena il primo boccone amaro della sua stagione e dunque disco rosso per la Feralpi contro il Bassano disco giallo-rosso visto i colori della squadra veneta la Feralpi mi pare che nel primo tempo non abbia fatto male però sei d'accordo? sì sicuramente una partita dai due volti un primo tempo secondo me ben giocato dove c'è stata una buona supremazia territoriale meritatamente in vantaggio con un bellissimo gol di Bracaletti poi c'è stato questo episodio un po' sfortunato questo autogol di Leonardo Duzzi che probabilmente ha spento un po' le luci un po' la concentrazione e a seguire un secondo tempo con probabilmente un calo di concentrazione che è stato poi fatale anche perché la compagine del Bassano insomma di tutto rispetto è una squadra che l'anno scorso ha tolto la classifica degli scontri diretti e ha vinto il campionato quindi la squadra ha cullato a lungo l'idea di poter salire poi c'è stato la vicenda che ha visto restituire i punti all'ultimo a Novara insomma un po' di come al solito di manfrine che purtroppo fanno parte del nostro calcio vorrebbe da dire ahimè però insomma io credo che sia stato come dire il calendario non è stato benevolo nei confronti della Feralpi no? Alessandria e Bassano adesso ci sarà la Propatria sabato prossimo la affrontiamo un po' all'oscuro perché non ha ancora iniziato il campionato quindi non c'è neanche materiale per poter per fare un raffronto ovviamente un raffronto e capire si era messa bene direi stavamo giocando anche una buona gara avevamo trovato uno spunto in velocità con Braccaletti poi poi abbiamo preso gol a 5 minuti mi sembra alla fine del primo tempo un po' fortuito e forse se riuscivamo ad andare in spogliatoio in vantaggio avremmo visto un secondo tempo diverso più per la casualità del gol stesso perché non l'hanno costruito direi dalla panchina è sembrato un gol di ginocchio ma sembra che poi sia anche un altro letto per cui dimostrazione del caso e niente poi nel secondo ci hanno sorpreso con qualche ripartenza e noi siamo stati bravi a recuperare la partita Cosa tenere cosa eventualmente limare cosa invece cancellare subito subito Il risultato direi per me era particolarmente importante oggi perché dovevamo dimostrare una certa maturità anche se siamo solamente la seconda di campionato la maturità intesa come aver capito cosa serve cosa servirà a livello di intensità di capabilità per cercare di stare in alto come posizioni in classifica e devo dire che oggi soprattutto nel secondo tempo è mancato questo per cui sotto questo punto di vista dobbiamo lavorare ancora e parecchio se è rimasto vuol dire che non sono stato bravo io a farla dimenticare totalmente perché penso di sapere come va in questo mondo come bisogna gestire determinate situazioni ricordando anche che comunque di fronte avevamo un certo Bassano che di fatto ha vinto il campionato dell'anno precedente dell'anno scorso per cui sapevamo della qualità soprattutto dei quattro davanti della velocità che ci potevano mettere in difficoltà li abbiamo girati anche piuttosto bene soffrendo forse qualcosino sulle fasce laterali ma come disposizione in campo delle due squadre l'avevamo anche messo in preventivo per cui ripeto se non l'abbiamo dimenticato in fretta la cosa mi prendo io la responsabilità di questo beh direi che innanzitutto bisogna togliersi il cappello visto che si è preso le colpe almeno dell'aspetto psicologico e questo fa onore a Serena che conferma di essere sicuramente una persona che ha una certa idea del calcio ma anche della quotidianità e quindi essersi preso le responsabilità credo gli faccio onore sicuramente adesso però devo dare per qualche istante la linea alla regia e poi ripartiamo e ci occupiamo di settore giovanile cioè entriamo nel merito di ciò che la Feralpi fa o vuol fare o ha fatto perché comunque non sono stati fino ad oggi con le mani in mano per quanto concerne appunto il settore giovanile restate con noi a tra poco di nuovo insieme con Feralpi Salon News con Pietro Lodi vice responsabile del settore giovanile della Feralpi Salon nonché responsabile della parte riguardante le affiliazioni quante sono in questo momento una decina mi pare le società affiliate 8 per esattezza e quindi insomma anche lì siamo piccoli ma cresceremo sì piccoli ma cresceremo ma logicamente abbiamo la necessità di limitarne il numero in considerazione del fatto che anche per ragioni logistiche io credo non solo per ragioni logistiche ma anche soprattutto dovendo usufruire delle nostre risorse interne per formare queste società affiliate dobbiamo limitarne il numero se no non riusciremo ad adempiere gli obbligi presi c'è stata la conferma in blocco sostanzialmente di coloro che l'anno scorso hanno lavorato con profitto regalando io penso anche delle belle soddisfazioni alla società non solo per i risultati ottenuti perché poi quello che deve essere secondo me lo spirito del settore giovanile non è solo quello di vincere è vero che le vittorie aiutano a crescere però è tanto vero che ciò che si chiede ad un settore giovanile è far maturare i ragazzi farli crescere prepararli per la prima squadra e a volte questo può andare a discapito del risultato dico bene? sì sicuramente logicamente l'aspetto tecnico calcistico conta è inutile nascondersi e conta però parallelamente a questo tipo di formazione noi crediamo molto nella formazione educativa dei nostri ragazzi quindi fare in modo che gli stessi riescono ad acquisire una cosiddetta cultura del lavoro quindi riuscire a capire l'importanza dell'allenamento della possibilità di migliorarsi e questo può avvenire solo ed esclusivamente attraverso una giusta attenzione e un giusto apprendimento quindi indispensabile la filosofia che sta alla base del lavoro del settore giovanile Feral Pissalò forse viene riassunta alla perfezione anche da iniziative come questa che ho tra le mani gioco più saluto più divertimento guarda e sport questo è il volumetto che avevate realizzato lo scorso anno e che avete presentato lo scorso anno cioè c'è anche un approccio come dire sociale e culturale in ciò che fate a vantaggio del settore giovanile sì questo è un progetto il progetto scuola al quale teniamo tantissimo ed ha avuto un grandissimo successo e una grande condivisione d'altronde quando il progetto ha come suo scopo il suo fine la crescita educativa dei nostri figli non può che essere un progetto vincente ovviamente ovviamente la Feral Pissalò unitamente ad alcune associazioni sportive come Rugby Calvisano Canottieri Salò Atletica Robur e con la collaborazione dell'Avis ha ha voluto diffondere l'importanza dello sport nella vita dei nostri ragazzi per far capire loro che fare sport non vuol dire semplicemente fare un'attività motoria ma vuol dire qualcosa di più cioè vuol dire avere un modo di pensare un modo particolare di comportarsi e questo perché lo sport ha una prorogativa unica cioè quella del divertimento i ragazzi attraverso il divertimento hanno la possibilità di imparare a rispettare le regole a diventare dei seri professionisti ad essere corretti ad essere solidali ad essere a imparare i concetti di fair play quindi abbiamo fatto questo progetto siamo entrati in alcune scuole della provincia di Brescia in poco più di un mese e mezzo abbiamo avuto la bellezza di circa 600 bambini che hanno aderito a questo progetto e abbiamo omaggiati tutti con questo con questo libro scritto a quattro mani appunto e all'interno ci sono contenuti ripeto educativi ma anche formativi quindi si parla di alimentazione si parla di fair play si parla di cyberbullismo noi abbiamo questa collaborazione che continua con la costura di Brescia anche quest'anno viaggeremo a braccetto con la costura di Brescia per diffondere l'importanza e la lotta contro il cyberbullismo la giornata si è articolata in tre fasi una prima fase culturale dove abbiamo appunto distribuito questo libro ne abbiamo spiegato i contenuti ne abbiamo parlato con i ragazzi con gli insegnanti dopodiché c'è stata una fase che potremmo definire interattiva dove tutti questi bambini sono stati invitati allo stadio Turino di Salò che per l'occasione è stato allestito con vari stand e hanno avuto la possibilità di provare i diversi sport quindi si sono cimentati nel rugby nell'atletica leggera nel calcio è stata una festa a 360 gradi abbiamo parlato gli amici dell'Avis hanno parlato dell'importanza della solidarietà abbiamo parlato ripeto di fair play di rispetto delle regole ma soprattutto di rispetto non solo per capire ai bambini che è importante non solo il rispetto delle persone e quindi dello staff o degli insegnanti in caso nell'ambito scolastico ma è soprattutto importante il rispetto dei materiali che vengono dato a loro disposizione quindi per quanto riguarda lo sport le attrezzature che la società sportiva mette a loro disposizione quindi rispettarne per poterne usufruire quindi imparare e migliorare e lo stesso dicasi poi nell'ambito scolastico quindi i libri dai libri ai banchi alle lavagne cioè avere rispetto quello che vogliamo logicamente è non sostituirci alla capacità educativa dei genitori ma far sì che i genitori ci vedano come una società che possa collaborare per la crescita e l'educazione dei loro figli e questo è quello che conta di più noi mentre tu parlavi per qualche minuto abbiamo visto anche delle immagini che si riferiscono alla stagione passata erano credo gli allievi adesso ne rivedremo ancora alcune di queste immagini erano gli allievi che lo scorso anno mi pare siano stati i protagonisti di un ottimo campionato a conferma di quell'adagio che in qualche modo cercavamo di proporre prima cioè è vero che il risultato conta però quello che conta maggiormente poi è la crescita e allora allievi e mi pare di poter dire Berretti le due squadre che l'anno scorso hanno fatto molto molto bene sì entrambe hanno raggiunto la fase finale Scudetto Scudetto nazionale quindi sicuramente un ottimo risultato e ripeto un contributo fondamentale l'ha dato anche l'aspetto educativo sapere e vedere questi ragazzi che ogni volta che venivano al campo erano attenti partecipi e ogni insegnamento loro impartito dall'allenatore era recepito e messo in pratica era motivo di grande soddisfazione diciamo che c'è una filosofia di fondo che riguarda tutta la società cioè come dire se vuoi giocare nella Feralpi sia che tu sia in prima squadra come nella scuola calcio evidentemente devi in qualche modo sposare una filosofia che è quella che in qualche modo predilige l'educazione predilige la crescita dell'individuo al risultato e al fatto di sfornare campioni verrebbe quasi da dire che uno slogan sarebbe sforniamo uomini non campioni esatto ma condivido lo condivido anche perché poi spesso l'uomo coincide con il campione non è detto che le due cose non vadano d'accordo sarebbe un binomio vincente sicuramente trovare il campione e anche campione di educazione ma è proprio quella la nostra finalità cioè quella di riuscire a far sì che ogni ragazzo che esce dal settore giovanile alla Feralpi possa magari essere anche discutibile da un punto di vista tecnico facistico ma che sia indiscutibile da un punto di vista comportamentale che abbia una propria cultura del lavoro e che sia un ragazzo da quel punto di vista rispettoso ripeto degli insegnamenti delle regole e della correttezza ciò che piace della Feralpi è questo approccio sempre molto pragmatico ma allo stesso tempo un approccio che tiene conto di alcuni valori e poi il fare le cose come dire in proporzione alla lunghezza delle proprie gambe cioè in realtà tutti sappiamo che Feralpi Salò significa gruppo Feralpi quindi significa una grande industria che ha fatturati eccezionali che è considerata una delle tre industrie che producono acciaio più importanti del nostro uno dei gruppi industriali nel settore dell'acciaio ovviamente più importanti d'Italia tra i principali in Europa insomma una realtà imprenditoriale di tutto rispetto guidata da Giuseppe Pasini e dalla sua famiglia e per cui alle spalle è vero che c'è questo gruppo e quindi c'è una solidità finanziaria ed economica importantissima ma è altrettanto vero è altrettanto vero che prima di tutto ci sono dei valori ben precisi e poi vengono i risultati poi certo lo dicevamo anche prima vincere piace a tutti però non deve essere una come dire un carico da portarsi sulle spalle ogni giorno assolutamente sì la mentalità aziendalista è stata anche trasportata nella Feral Pissolo SRL e questo secondo me è uno degli aspetti vincenti quindi ogni progetto che viene ogni iniziativa viene poi elaborato in echippe quindi questa è la forza secondo me della Feral Pissolo e posso dire anche che siete una specie di vulcano in continua eruzione perché a pie sospinto ogni tanto sfornate iniziative hai accennato prima al cyberbullismo c'è questa cosa dell'alimentazione del gioco della salute anche per esempio dal punto di vista mediatico la televisione su Youtube un'attenzione particolare anche all'aspetto commerciale ecco la nascita di un punto vendita salò cioè non state mai fermi insomma siamo in continua crescita siamo in continua crescita e come giustamente dici tu in maniera proporzionale quindi non ci sbilanciamo cerchiamo di fare passo dopo passo proporzionato alla lunghezza delle nostre gambe quindi stiamo crescendo lo stiamo facendo la direzione è quella giusta poi sai ma pensiamo anche solo al magazine che viene pubblicato che esce periodicamente il sito internet che è tra i più aggiornati io credo dell'intera categoria e non solo cioè questo vuol dire che c'è come dire un gruppo di persone che hanno sposato una filosofia no? alla fine i risultati si vedono i risultati arrivano i risultati sono la logica conseguenza poi talvolta qualcuno ci fa la fatidica domanda se col brisciacalcio se si può se si vedono in competizione col brisciacalcio ma assolutamente il brisciacalcio ha una storia una tradizione ma per certe cose dovrebbe essere il brisciacalcio ad essere in competizione con voi dovrebbe essere ribaltato il discorso ma è meglio che ci fermiamo lì perché se no se si parla di risultati calcistici è logico che la sana competizione ben venga ma quando la priorità ripeto è quella della crescita dei ragazzi la competizione deve essere fatta da parte il brisciacalcio ha una tradizione una storia calcistica che è ineguagliabile che non può certo la Ferapi non può è la società leader a livello bresciano non c'è dubbio noi quello che possiamo offrire continueremo ad offrire serietà competenza e professionalità ma hai detto niente visto come dire i tempi che corrono e non vado oltre bene 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 chiudiamo qui perché non abbiamo più tempo a disposizione io ringrazio Pietro Lodi di essere intervenuto qui nei nostri studi gli auguro naturalmente buon lavoro perché come dicevamo prima non stanno mai quelli del settore giovanile e quelli della Ferapi Salone in generale con le mani in mano ricordo Pietro Lodi che è responsabile del settore affiliazioni del progetto affiliazioni della Ferapi Salone anche vice responsabile del settore giovanile grazie di nuovo a Pietro Lodi di averci fatto compagnia e soprattutto a tutti voi di averci seguito e forza Ferapi Salone in collaborazione con a Pietro Lodi